Sapete che Vodafone è stata appena venduta in blocco per 8 miliardi di euro a Swisscom. Sediamoci. Tra l'altro lasciando a bocca asciutta Iliad, che aveva già fatto l'offerta due volte. Questa notizia potrebbe avere dei risvolti positivi per molti di noi. Infatti il punto principale è che Swisscom uguale Fastweb, quindi come per Win 3 potrebbe esserci un nuovo gigante delle telecomunicazioni. Immaginate la copertura capillare del 4G e del 5G di Vodafone unita all'infrastruttura per la fibra di Fastweb. Hanno già fatto sapere che stanno progettando delle soluzioni innovative che mettono insieme 5G e fibra. Insomma, roba da divorarsi il mercato. Forse anche troppo, infatti tutta questa operazione deve essere ancora approvata dagli enti regolatori del mercato. Ma se tutto andrà secondo i piani, da metà del 2025 Fastweb e Vodafone saranno una cosa sola. Voi come la vedete? Come una notizia positiva o negativa?